La minore domanda di credito in America potrebbe diventare un'altra ragione per la debolezza del dollaro. La Banca del Giappone minaccia ulteriori interventi sul mercato valutario, la sterlina si apprezza con il miglioramento dell'economia britannica, l'euro potrebbe perdere il suo slancio dopo essere salito del 14% dalla fine di giugno contro il dollaro americano. Di mercato valutario parliamo in questo video con Saverio Berlinzani, Saverio è presidente di Saveforex e questa volta lo troviamo in collegamento internet da Milano. Ciao Saverio. Ciao Luciano, buonasera a tutti. La UBS dice che il dollaro potrebbe rimanere debole per i prossimi due o tre anni e questa volta a causa del fatto che i consumatori americani in questo periodo loro si presume che paghino i debiti che hanno accumulato e che riducono di conseguenza la domanda per il dollaro e questo appunto potrebbe avere un impatto sull'andamento valutario. Che ne dici? Sì, il dollaro è rimasto sotto pressione per tutte queste settimane con un minimo nei confronti dell'euro in area 1,41,30. Questa debolezza del dollaro è strutturale, è voluta dall'amministrazione americana a causa della decisione di allargare la base monetaria e continuare nel medio termine a farlo. L'economia americana non si riprende soprattutto dal lato dell'occupazione e queste sono le ragioni per cui il dollaro ha perso terreno. Però ci sono dei livelli e bisogna distinguere sempre le cose perché il dollaro dovrebbe perdere terreno nei confronti delle valute asiatiche e rimanere invece stabile nei confronti delle valute flessibili perché contro le valute flessibili il dollaro ha già toccato dei minimi che se non sono i minimi storici come è successo nel caso di Australia, poco ci manca come nel caso della Nuova Zelanda, mentre nei confronti dell'euro tutto sommato siamo nel range storico degli ultimi 4-5 anni per cui non mi preoccuperei troppo del livello euro-dollaro, anche se un euro sopra un'e40 sembra preoccupare le autorità europee. Quindi un biglietto verde che potrebbe continuare a scendere e dovrebbe continuare a scendere contro le valute del sud est asiatico proprio per quello che sta succedendo a livello globale, mentre nei confronti delle valute flessibili dovrebbe rimanere tendenzialmente stabile. L'euro dunque, adesso passiamo dal grafico euro-dollaro, ancora una banca che mi suggerisce l'argomento. Citigroup dice di aver eliminato le proprie posizioni lunghe sull'euro. L'euro dice Citigroup potrebbe guadagnare adesso contro il franco, contro la sterlina ma anche contro il dollaro perché è sopravvalutato. Ci sono dei dati che arrivano dalla Commodity Futures Trading Commission, che appunto è a Washington, che mostrano che i traders hanno aumentato le loro scommesse fino al livello più alto dall'ottobre 2009 pensando che appunto l'euro possa guadagnare contro il dollaro e questo secondo chi legge appunto sarebbe un'indicazione per un eventuale top dell'euro. Adesso potrebbe cominciare a smettere o perlomeno perdere lo slancio. Andiamo con ordine, nei confronti del dollaro 1,41,5 rappresenta una bellissima resistenza che se violata porterebbe a 1,42,30 quindi 1,45,70 come obiettivo finale. Non penso però che raggiungeremo quei livelli, per il momento 1,41, 1,41,5 credo che sia il livello top per l'euro contro il dollaro e credo che si possa ritracciare anche fino a 1,33,50 nelle settimane nei mesi a venire. Quindi mi aspetto una correzione della moneta unica a ribasso, quindi un dollaro in rafforzamento. Questo per effetto anche di risalite naturali del dollaro contro Franco Svizzero e del dollaro contro Ien che hanno raggiunto dei livelli al limite degli interventi concertati di tutte le banche centrali. Detto questo, quindi l'euro dollaro me lo aspetto in leggera correzione, mentre mi aspetto in ripresa l'euro contro Franco Svizzero, proprio perché la discesa dell'euro dollaro dovrebbe essere più che compensata da una risalita superiore del dollaro contro Franco Svizzero, mentre per quel che riguarda l'euro sterlina i dati sulla sterlina a mio avviso lasciano il cambio in un trend storico di correzione del rialzo che c'è stato negli ultimi 5 anni e a mio avviso l'area 0,90 non verrà intaccata e mi aspetto correzioni fino a 85,5. Quindi a seconda del cambio vedo situazioni differenti che però sono legate a quello che dicevi tu sul posizionamento dei traders retail che tendono ad allungarsi sui massimi di posizioni contro il biglietto verde e quindi credo che per questa ragione il biglietto verde potrebbe cominciare a riprendere quota. Ci sono poi altre ragioni che dovrebbero rallentare la corsa dell'euro, non per ultime le dichiarazioni di alcuni banchieri centrali europei che cominciano a dire che al di sopra di 1,40 e lo stesso Fondo Monetario Internazionale che dice che al di sopra di 1,40 la crescita del cambio potrebbe minare la ripresa economica. Lo Yen dunque si allontana un tantino dal punto massimo raggiunto negli ultimi 15 anni, la Banca del Giappone inizia a parlare di altri interventi, dice ovviamente non possiamo sorprendere il mercato, però non possiamo neanche dirglielo quando lo facciamo. La Banca centrale giapponese storicamente aveva smesso di intervenire nel 2003, il livello del 79 e 65 era stato visto addirittura nel 1995, ha fatto un paio di interventi in area 83, 83 e mezzo, ha visto che il mercato tendeva ancora a scendere e quindi ha smesso intervenire minacciando ulteriori interventi, ma non facendolo perché il mercato è long dollari, short yen e quindi in questo momento il mercato va a cercare stop loss a ribasso. Fino a che non verranno presi questi stop loss è probabile che la Banca centrale non intervenga, però già in questi ultimi giorni abbiamo visto una ripresa da 80,70 fino a 81,30 e con la salita del dollaro contro Franco Svizzero credo che il cambio si stia stabilizzando e al di di colpi di coda in area 80, 80 e mezzo, 80 e 70, credo che questi livelli siano estremamente interessanti per andare short yen e per comprare dollari nel medio e lungo termine, ma questa è la mia visione personale che in questo momento non è corroborata da una ripresa economica americana che possa sostenere questa idea, la mia è un'idea di possibile rimbalzo per il momento e successivamente solo quando l'economia americana darà dei segnali forti con la ripresa del mercato del lavoro potremmo parlare di ripresa sostanziale del dollaro e indebolimento sostanziale e strutturale dell'euroieno. Il movimento della sterlina può durare più di qualche giorno, il pound sale appunto dopo che l'economia britannica è cresciuta il doppio di quanto non avevano previsto gli economisti e tra l'altro anche Standard & Poor's ha affermato, ha confermato la propria valutazione sulla capacità creditizia della Gran Bretagna a AAA il massimo positivo ed è ritornato alle prospettive diciamo stabili, dunque correggendole dalle precedenti che erano invece negative, adesso invece la AAA è piena per la Gran Bretagna. Sì, la sterlina ha perso terreno negli ultimi 4 anni in modo strutturale con una sviluppazione competitiva avuta dall'amministrazione anglosassone. In questo momento si tratta di vedere quanto durerà questa ripresa, la ripresa c'è, vigorosa lo dimostrano i dati sul PIL, ben superiori alle attese e quindi la sterlina ha ripreso soprattutto contro euro, mentre contro dollaro si trova sostanzialmente in area 1,58-1,70 ricordo che la media storica del Kebolo, ovvero di sterlina dollaro è in area 1,65 pertanto non siamo lontani dalla media storica. Le mie aspettative su euro sterlina sono per un ribasso in area 0,85-1,50 mentre per il Kebolo l'area 1,60-1,65 per il momento dovrebbe contenere i rialzi. Solo una violazione di questi livelli potrebbe portare ad un rafforzamento sostanziale della sterlina, ma per vedere questo dovremmo vedere anche un euro dollaro ancora più forte, per il momento questo non è possibile, pertanto mi aspetto più che altro una fase laterale di Kebolo tra 1,55 e 61, mentre l'euro sterlina lo vedo scendere, pertanto la sterlina dovrebbe rafforzarsi soprattutto contro la moneta unica che era stata la prima a beneficiare della negatività della valuta britannica negli ultimi mesi. L'ultimo grafico è quello del franco svizzero, sembra che tutte le compravendite, particolarmente anche sul mercato valutario, siano dettate da questo quantitative easing, dalle facilitazioni quantitative, dal fatto che la Federal Reserve stampi soldi e li inserisca nel sistema attraverso l'acquisto di debito americano. Questo potrebbe portare a un certo punto a una diminuzione dell'appetito per il rischio? Sicuramente, il fatto che ci sia un aumento della base monetaria porta a un'inflazione della moneta stessa che si va a mettere sul mercato, per cui il problema è che questo dollaro sia inflazionato e l'unico momento in cui il dollaro potrà riprendersi sarà quel momento in cui l'inflazione a causa di questa esplosione di dollari sul mercato, questo aumento enorme di quantità di dollari sul mercato, porterà ad un aumento dei prezzi e ad un aumento dell'inflazione. Questo aumento dell'inflazione, perché l'aumento della massa monetaria, porterebbe ad un aumento dell'inflazione. Questo aumento dell'inflazione potrebbe così causare un rialzo in previso dei tassi da parte della Banca Centrale Americana, quindi della Federal Reserve. L'aumento dei tassi ovviamente non farebbe altro che riportare ad un bisogno di acquistare dollari perché si ritiene il dollaro di nuovo una valuta da investimento e non più una valuta da finanziamento e indebitamento. Fino ad oggi con i tassi a zero è stata una valuta da indebitamento, pertanto si è assistito continuamente a ribassi della moneta americana. questo aumento di quantità di moneta non ha fatto altro che provocare questa spirale e peggiorare la situazione del biglietto verde. Una volta che l'inflazione dovesse ripartire e non è il caso di questo periodo, gli americani nazionali tassi e quindi il dollaro tornerà appetibile e dreneranno automaticamente liquidità dal mercato, togliendo questo quantitativizing dal piano e dal programma della stessa Banca Centrale. Saverio io vorrei passarti una domanda che è arrivata da uno spettatore tramite appunto vloganza. Lo spettatore nota che ci sono stati molti titoli diciamo che hanno sottolineato il fatto che sul mercato valutario si stava vivendo appunto un periodo epocale e uno era anche uno di questi. Lui ne nomina alcuni, questa liquidità analogica, la guerra delle valute è inevitabile, gli eccessi sulle principali valute eccetera eccetera eccetera. Ma in una delle ultime interviste abbiamo trovato anche un ospite che invece ritiene che il rapporto euro-dollaro alla resa dei conti non sia così sforzato in questo periodo. Dice beh, dopotutto nel 2008 abbiamo visto un massimo a 1,60, è stato sopra 1,50 dollari l'euro da febbraio a agosto, appunto poi il massimo è arrivato a luglio, adesso siamo a 1,40, adesso è ancora forse non è un momento troppo difficile. La domanda che Gianni fa è appunto che vorrei far considerare il grafico, in questo caso parla di un grafico dell'euro-dollaro a più lungo periodo, in considerazione dei rialzi e dei ribassi dal 2008 ad oggi vi sembra che ci sia una guerra delle valute o una delle tante scaramucce che poi alla fine si aggiustano da solo e senza fare troppa notizia. E se non vi piace la parola scaramucce dice almeno spiegatemi le scorribande dal 2008 sull'euro-dollaro. Allora, cominciamo col dire che l'euro-dollaro rispetto al 2008 ha visto una diminuzione interessante della volatilità, basti pensare che da 1,60 nel 2008, ottobre 2008, il cambio scese a 1,24 per poi risalire a 1,52 e per poi scendere a 1,18 e per poi risalire nell'ultima fase a 1,40. Quindi si è assistito a una serie di tre massimi inferiori, che sono 1,60, 1,52 e l'ultimo 1,40 e mezzo, mentre si è assistito a due minimi inferiori, cioè 1,23 nel periodo della crisi Lehman, quando l'euro ha fatto i minimi, poi 1,18 nell'ultima crisi europea quando si pensava che l'euro potesse addirittura scomparire con la crisi greca e adesso potremmo tornare a scendere verso addirittura i minimi inferiori. Quindi si tratta semplicemente, guardando l'euro-dollaro, non certo di una guerra valutaria. Però bisogna considerare che il mercato valutario non è solo l'euro-dollaro, il mercato valutario è tutta una serie di valute contro dollaro che hanno, nell'ultimo periodo, fatto i minimi o i massimi degli ultimi 15 anni. Mi riferisco all'Australia che ha toccato la parità contro il biglietto verde, mi riferisco al dollaro yen, mi riferisco al dollaro franco-svizzero che è sceso a 0,94 e 50, minimo storico. Ebbene, tutta una serie di livelli su cui il dollaro ha fatto dei minimi, tutta una serie di valute su cui il dollaro ha fatto dei minimi e sui quali si pensa che ci sia una guerra valutaria. In effetti la situazione è tale perché ci sono troppe poche valute flessibili. Il fatto che la Cina manipoli il cambio, tenga il cambio manipolato e non lasciato alle libere forze di mercato, così come la lupia indiana, così come il bar thailandese, così come la maggior parte delle valute del sud-est asiatico, provoca una distorsione a livello globale. Che poi dopo questo non si rifletta sul cambio a euro-dollaro perché è più liquido di tutti. Questo è un altro paio di maniche. Sicuramente l'euro-dollaro rimane la valuta più liquida e la valuta più tranquilla. E così continuerà ad essere. Dobbiamo davvero fermarci. Grazie mille a sapere Berlinsani. Ciao Salerno. e poi riprenderemo.